La percezione di un fenomeno cambia in base alle emozioni vissute che ne restano legate. I palermitani hanno da sempre valutato negativamente la mancanza di acqua e improvvisando strane e intime danze della pioggia hanno aspettato la stagione invernale perché i temporali rinfrescassero l'aria ancora secca dell'estate. Ma dal 15 luglio non è più così. Adesso ogni qualvolta che dal cielo cade una quantità d'acqua superiore alla media ritornano in mente angosce. quelle immagini di autogalleggianti e automobilisti costretti a nuotare nei sottopassi della circonvallazione per salvare se stessi e i propri familiari. Al netto delle richieste di risarcimento dei danni il comune ha assicurato che a prescindere da un fenomeno atmosferico che si verifica una volta ogni due secoli avrebbe preso tutte le precauzioni del caso perché nulla del genere potesse ripetersi ancora. E invece il 22 novembre in un pomeriggio di ordinario lockdown domenicale una pioggia decisamente meno intensa di quella del festino ha creato gli stessi disagi. Sottopassi di Viale Regione Siciliana allagati e chiusura al traffico in Viale Lazio e Via Belgio fino a Corso Calatafimi. Dopo ore di lavoro gli operai della Rapp hanno rimosso alcuni rifiuti e detriti che ostruivano le caditoie per fare defluire l'acqua e il fango. La circolazione è tornata alla normalità. Di normale però non c'è nulla e nella percezione di un fenomeno ci si è ritrovati a ringraziare di essere costretti a restare a casa per la pandemia pur di non ritrovarsi ad ormeggiare la propria auto sotto ad un cavalcavia.